Allora, nuovo appuntamento per Miss K la FAQ, questa volta è toccato a me e quindi direi che mi butto subito sulle domande Ovviamente devo aprire citando il fatto che moltissimi hanno commentato che nella foto dell'artwork sembrassi fa VJ cosa che non mi dà assolutamente fastidio e cosa che però insomma secondo me non è nemmeno così tanto vera, però forse in quella foto un pochino si Comunque, Skymaster90 e altri chiedono Come si è entrato a far parte della redazione? Prima scrivevo per un altro sito, Spazio Games In occasione di un evento ormai 8 anni fa ho incontrato un ragazzo che scriveva per Multiplayer, che faceva l'inviato, Matteo Caccialanza Matteo mi ha chiesto se volevo entrare, se volevo collaborare con Multiplayer In realtà la cosa ha preso un pochino di tempo poi insomma appunto ho accettato, sono entrato a far parte di Multiplayer per fare gli eventi e poi insomma nel tempo ovviamente in 8 anni la posizione si è evoluta in una direzione piuttosto che nell'altra Comunque questo è un pochino come è iniziata l'avventura con Multiplayer Niente di roccambolesco, niente storie che mi fanno tornare alla preistoria come i miei colleghi che si sono conosciuti molto prima Oldboy e qualcun altro anche chiede perché non sei nel casfisso di Multiplayer In realtà non è tanto una questione di non essere nel casfisso Io come detto ho iniziato facendo Multiplayer e Multiplayer gli eventi A Multiplayer serviva una persona dislocata nell'area di Milano e quindi poi sono sempre rimasto lì, non mi sono mai trasferito a Terni e questa è anche la ragione per cui come chiede Ergut ad esempio non appaio quasi mai in video perché in realtà appaio in video soprattutto quando ci sono le fiere e poi quando faccio i video da casa ultimamente non ho avuto troppo tempo e soprattutto non trovandomi nemmeno a Milano in questo periodo non ho la possibilità di fare video però effettivamente è una cosa che devo rimettermi a fare anche perché ho in sospeso delle cose tipo il fondo del barile che avete richiesto in parecchie che colpevolmente ho abbandonato Faina chiede quello per Multiplayer è tuo unico lavoro? Sì assolutamente ho lavoro full time però ho lavoro full time non in redazione da distanza G1094 e qualcun altro chiedono quali sono i miei interessi i tuoi, i miei interessi al di fuori dei videogiochi direi soprattutto il cinema soprattutto visto in sala la casa non mi appassiona moltissimo ed è anche la ragione perché guardo poche serie televisive invece cerco di andare al cinema almeno una volta a settimana e poi viaggiare tantissimo perché ho imparato a farlo soprattutto beh anche più da piccolo però soprattutto poi per lavoro e ormai cerco di farlo il più possibile anche per svago queste sono più o meno le mie due passioni fuori dal lavoro anche la lettura, un po' di manga, un po' di anime però diciamo cinema e viaggi sono quelli principali Lorenz chiede percorso di studi e se invecchio? In vecchio ovviamente no percorso di studi ho fatto liceo scientifico poi ho iniziato ingegneria informatica percorso universitario che ho interrotto perché poi nel frattempo l'ho portato avanti un pochino parallelamente con il lavoro per multiplayer poi quando il lavoro per multiplayer è diventato molto consistente in termini di impegno orario, giornaliero, di viaggi ho magari anche un po' stupidamente abbandonato l'idea di proseguire però fare ingegneria e lavorare per multiplayer non era alla portata delle mie capacità mentali forse ingegneria non era alla portata delle mie capacità mentali anche senza multiplayer Dextel chiede che lavoro avrei fatto se questo non fosse andato bene? il percorso di studio era quello quindi insomma una cosa in quella direzione poi era tutto da vedere se insomma se fossi stato in grado di portarlo a termine magari sì Nine Lives chiede non sono ancora riuscito ad inquadrare o capire il tuo carattere come sei? non lo so l'ho citato questa domanda perché mi sembrava brutto non farlo visto che l'hai fatta però mi è difficile, molto difficile risponderti quindi non lo farò Michegla chiede cosa ne pensi dei Lamparty? Ne fai? sarà una forma di intrattenimento mainstream nel futuro? all'ultima parte della domanda chiaramente no poi col gioco online sarà sempre più complesso però cosa ne penso? Penso che sia una figata sono stato a diversi eventi tipo il Dreamhack insomma tutti i vari Blitz insomma 100.000 eventi che possono più o meno essere inquadrati come dei Lamparty che sono delle gran figate ne faccio? No a meno quando ci invitano e si può partecipare sì però non mi porto in giro il PC non lo faccio il buon Gianmatteo chiede sei contento di essere distaccato dalla sede di Terna? ti piacerebbe stare giù con gli altri? ma in realtà do grande valore alla mia indipendenza al mio essere distaccato ovviamente è una cosa che ha dei pro che sono appunto la grande libertà di non dover andare in ufficio tutti i giorni di potersi gestire in un certo modo il lavoro ovviamente ha dei contro perché è un'organizzazione che nel tempo ha richiesto un certo impegno per essere messa in piedi e ovviamente anche una certa flessibilità da parte dell'azienda e poi comunque non stare con i colleghi in molti momenti sarebbe più piacevole stare in compagnia piuttosto che starsene al PC soli soletti Bosk e altri mi chiedono ci racconti della tua relazione sentimentale con Pierpaolo? non parlo della mia vita privata però potete vedere tutti i video che abbiamo pubblicato in questi due anni dalla Gamescom dell'anno scorso insomma potete ripercorrere un pochino quella che è l'evoluzione della relazione sentimentale tra me e Pierpaolo The Saddy Time con quale console hai iniziato a giocare? qual è il primo gioco che ti ha fatto appassionare per davvero? almeno quello che ancora adesso ti è rimasto nel cuore sono quelle domande difficili la prima console è stato il NES il primo gioco che mi ha fatto veramente appassionare è difficile ripercorrere ma forse a pari merito molto più avanti molto più avanti è stato forse quando veramente mi sono appassionato forse all'epoca di Playstation con Final Fantasy 7 mentre su PC probabilmente Half-Life il primo che mi è rimasto nel cuore per davvero pazza wow spero di averlo detto giusto ma anche chi se ne frega scherzo visto che Pierpaolo non ci ha risposto sai quanto prende al mese? al mese non mi viene così da fare il calcolo però sono 2 milioni e mezzo all'anno quindi potete fare diviso 12 voi Rotok chiede punti a diventare capo supremo di Multiplayer? ovviamente sì è quello per cui lavoriamo tutti diventare capi supremi di Multiplayer.it Squilli quando fai la spesa sempre che tu la faccia preferisci pagare con il banco metto la carta di credito i contanti ho il banco metto la carta di credito il caffè come lo prendi amaro, poco zuccherato eccetera eccetera non prendo quasi mai il caffè Lucchino chiede pratichi qualche sport? corro anche se ultimamente lo faccio un pochino meno e più pigramente quindi diciamo che sono in fase calante e poi ma e poi direi di no un tempo sciavo facevo snowboard adesso sono alcuni anni che non che non mi cimento più purtroppo Walter White scritto all'italiana e anche qualcun altro hanno chiesto vai molto d'accordo che altri ragazzi della redazione con Quali in particolare sì vado d'accordo assolutamente beh ovviamente prima abbiamo citato la mia relazione amorosa con Pierpaolo quindi quella insomma è una cosa un pochino a parte no vabbè a parte gli scherzi ho un carattere per cui mi è difficile non andare d'accordo con qualcuno allo stesso tempo e mi sto rendendo conto che sto anche rispondendo a Nine Lives alla domanda prima di Nine Lives allo stesso tempo ho anche un carattere che è abbastanza solitario ci metto un po' a dare confidenza quindi ho un rapporto insomma molto positivo con tutti perché comunque anche il mio carattere penso sia abbastanza accomodante da questo punto di vista e poi infine Andri Lorenzini chiede in breve puoi raccontarci la tua giornata tipo quanti viaggi fai in media ogni anno la mia giornata tipo è che mi sveglio verso le 7 e mi metto a lavorare verso le 7 e mezza insomma guardo le mail guardo le notizie che è una parte importante del nostro lavoro e poi insomma sto attaccato al computer a lavorare di solito almeno fino alle 7 faccio più o meno dalle 7 e mezza alle 6 e mezza 7 ovviamente sono parecchie ore ma tornando al discorso di prima lavorando da casa mi è permessa una flessibilità che ovviamente chi invece va in ufficio e deve stare in ufficio da non so dalle 9 alle 5 alle 6 non può avere quindi sembrano tante ore poi in realtà mi posso prendere i miei tempi posso fare un pochino come mi pare quanti viaggi faccio in media all'anno in realtà un tempo ne facevo moltissimi c'è stato un periodo in cui secondo me considerando anche che c'erano più eventi ne facevo ma non dico una settimana considerando che molti erano in Europa però ho fatto un paio d'anni in cui uno ogni due settimane ne facevo di eventi secondo me adesso ne faccio molti meno perché nel frattempo anche il lavoro si è voluto faccio anche altre cose quindi adesso mi è un pochino difficile risponderti però comunque ne faccio ancora parecchi faccio quelli che mi interessano che mi piacciono però non più come un tempo non ho più il tempo di una volta e basta dire che queste erano alcune delle domande che mi avete fatto in realtà quasi tutte sicuramente mi sono scordato qualcuno ma magari mi sono anche scordato di leggerlo nel caso chiedo scusa magari rispondo nei commenti se mi fate notare che non ho risposto qualcosa di interessante io vi ringrazio ciao